ciao a tutti i nesini siamo qui in un nuovo video e oggi ho due nuove uova di pasqua ad aprire con voi sono come vedete quelle dei pokémon le cercavo tantissimo quindi finalmente siamo riusciti a trovarle e niente me li ha presi insomma mia madre grazie a lei che insomma va a fare la spesa e niente sono della wheators non so mai come si legge e allora il prezzo non lo so però dipende da tanto comunque dipende da supermercato a supermercato li potete trovare intorno ai 6 7 euro ma alcuni li hanno trovati addirittura a 3 euro dipende un po dagli sconti che fanno ce ne sono tre di artwork ci sono questi qua di pikachu e psyduck ma anche quello di youtube sono fantastici questo è un video in collaborazione con davide nico vi lascio il suo canale qua sotto in descrizione e vi metto insomma il link al suo video in cui li spacchetta perché anche lui li aprirà e vedremo insomma che cosa trova lui uno l'ha già aperto sul suo canale quindi potete andare a vedere anche quello e niente so già più o meno che cosa si può trovare ma vediamo se magari c'è altro oppure quali cose trovo in particolare prima di iniziare però vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata da ebay che sono questi francobolli di harry potter che sono i francobolli diciamo dei della prima edizione dei libri di harry potter sono in inglese infatti mi sono arrivati dall'inghilterra e niente li aggiungerò appunto alla mia collezione sono ovviamente quello del calice di fuoco e dell'ordine della fenice e niente li aggiungo appunto alla mia collezione qua su e niente mi piacciono molto adesso vi faccio vedere le uova e le apriamo allora eccole qua e intanto appunto vi invito ad andare anche sul canale di davide nico lui fa diciamo gameplay di pokemon go quindi se vi interessano potete guardarvi anche quelli oltre agli spacchettamenti delle uova questi sono quelli quindi nuovi di quest'anno con questo artwork se ce ne sono diversi non sono di quest'anno ma sono vecchi è molto carino a tipo graffiti come appunto disegni sui muri diciamo è fatto così e sono 200 grammi allora eccoci qua e apriamo il primo ah beh perché era caldo e quindi se un po' dopo lo metto insomma in frigorifero mi sa vabbè ho trovato subito quello che volevo quindi top allora eccolo qua ho trovato uno dei popsocket quelli che si attaccano dietro al cellulare dopo vediamo come si usa ve lo faccio vedere insomma e è quello di mewtwo che era il mio preferito lo volevo un sacco era quello che a cui puntavo quindi top e dopo lo andiamo a vedere e adesso vediamo quest'altro di psyduck che è un altro dei miei pokemon preferiti e c'è anche il suo di popsocket poi quello di pikachu poi c'è quello degli starter e anche di venus a orcia risort se non sbaglio eccetera e poi ci sono delle palline rimbalzine sempre con questi disegni io ovviamente puntavo esclusivamente ai popsocket e vi basta scuadere un po' l'uovo e sentirete se c'è o meno la pallina dentro questo è leggero e non sbatte quindi non c'è la palletta probabilmente eccoci qui al secondo uovo anche questo mi sa che si è un po' oh si è aperto benissimo ok abbiamo trovato un altro popsocket stavolta di pikachu se riesco a toglierlo ok eccolo qua è pikachu arrabbiato allora come sapete i pikachu mi perseguitano quindi me l'aspettavo che qualcosa di pikachu sarebbe uscita però mi piace molto quando è arrabbiato quindi questo qua mi piace e niente ora li andiamo a tirar fuori e vi faccio vedere come sono ma sembrano molto carini allora eccoci qua iniziamo da questo di Mewtwo eccolo qua allora vabbè questa è solo una carta con scritto pokemon e questo è il popsocket allora è carino è tutto diciamo in rilievo anche come vedete e quindi non credo che la stampa vada via troppo facilmente almeno questa è la mia supposizione questo in pratica va incollato dietro alla copertina del vostro cellulare si apre così e si usa in questo modo a quanto vedo sono fatti molto bene perché potete anche cambiarli ora se riesco come vedete togliete la parte sopra e lo scambiate quindi magari appunto un giorno portate Mewtwo un giorno portate pikachu un giorno portate altri popsocket e poi vediamo questo e niente è uguale nero ma con pikachu eccolo qua carino non capisco che cosa ha qua tipo una strusciata arancione di colore però è carino appunto è tutto tipo graffiti e vi faccio vedere alcuni popsocket come l'ho messo io sulle copertine allora questi sono due esempi di quelli che uso di solito appunto questa è una copertina ovviamente vi servono quelle abbastanza rigide e lisce non opache non sto mettendo a fuoco ok e appunto funzionano così io li trovo comodissimi da quando li utilizzo non riesco più a usare il cellulare senza popsocket e questa invece è la copertina dei pokemon sempre rigida e questo è un altro di quelli che che utilizzo io e ora vi faccio vedere come ci sta questa qua di Mewtwo su quella che sto usando adesso eccola qua ed è fantastica adoro questa cover però la usavo poco proprio perché non avevo un popsocket e mi sapeva un po' scomodo come al solito e ci sta benissimo anche perché il mio cellulare è viola quindi ci stanno benissimo questi dettagli e niente non posso che essere più contenta quindi fantastici e niente questo è tutto per questa apertura fatemi sapere se vi è piaciuta e se li avete presi o li prenderete e che cosa ci trovate insomma voi come vi ho detto prima vi ricordo di andare a vedere anche il video di Davide Nico vedete che cosa troverà lui fatemi sapere se vi piacciono queste sorprese quali uova avete preso e quali vorreste vedere per le mie prossime aperture vi invito a lasciare un pollice in su a iscrivervi al mio canale e vi mando un bacione alla prossima ciao ciao